Giorgetti appassionati di Ippica, settembre, tempo di aste, tempo di speranze e di sogni e noi siamo qui a presentarvi la prossima Asta ITS di Trotto che si terrà il 13 e il 14 questo mese al Centro Ippico Etrea di Bustastrizio. Lo facciamo con Giulio Berardelli che ci ha raggiunto e che ovviamente rappresentanza della casa d'asta ITS ci racconta un po' quello che succederà. Allora Giulio benvenuto. Grazie Luigi. Senti se c'è un momento in cui il mercato è favorevole a questi puliti penso che sia questo. Assolutamente sì, senza gettare fumo negli occhi alla gente ma indubbiamente il momento per acquistare un cavallo, un puledro, questo qui, il Montepremi per i due anni è notevolmente aumentato quindi invito tutti i dubbiosi adesso a venire veramente a comprare un sogno che può diventare realtà venendo all'asta. Allora un catalogo estremamente ricco, 161 iscritti al netto dei ritiri saranno poi 150 i cavalli che passeranno sotto il martello. Si era detto ma molti hanno venduto prima la loro produzione però in realtà poi la grande qualità è qui in questo volume. Lo zoccolo duro della grandissima qualità degli allevatori li presenterà all'asta quindi abbiamo i migliori allevamenti, i migliori cavalli. Quale migliore occasione per venire? Ovviamente come dicevi tu ci sarà un ritiro fisiologico, di solito è il 10% degli iscritti quindi saranno un 150, suddivisi in due giornate come dicevi tu, il 13 settembre passeranno 75 cavalli sotto il martello, saranno tutti radiografati i primi 75 appena scenderanno dal van e inizierà alle ore 14 e il secondo giorno saranno circa 80-85 i cavalli che passeranno sotto il martello. Ovviamente è attesa una folta partecipazione straniera ma i nostri acquirenti sanno farsi valere, sanno comprare il giusto perché di pochi giorni fa il Gran Piero Marangoni dove appunto i cavalli che si sono piazzati i primi tre posti sono tutti i cavalli passati all'ETS. Sì è vero, il primo, il secondo e il terzo, Vastop, Vitruvio e Vividwise sono tutti e tre cavalli passati e venduti poi sotto il martello dell'asta del 2015. Sì è vero, molti stranieri comunque verranno lo stesso all'asta ma è un trend che da due anni è cambiato perché gli acquirenti italiani sono ovviamente aumentati, anche questo grazie al lavoro svolto dalle categorie e dal Ministero aumentando il monte premi, quindi hanno invogliato molto di più i proprietari italiani a acquistare. La location sarà ancora una volta il centro Ippico Etrea, ecco una scelta che si mantiene costante al tempo, ovvio pensare perché vi siete trovati bene. Sì ormai le cose al centro Ippico Etrea sono facilissime grazie al grande aiuto della famiglia Etrea, ci troviamo benissimo e credo si trovino bene anche gli allevatori, abbiamo aggiustato alcune cose che secondo noi non andavano bene come la visione dei puledri fuori dal box, non permetteva bene agli acquirenti di vedere bene il trotto del cavallo e il passo e abbiamo aperto un passaggio che dà adesso direttamente al campo gara che molti conoscono dove lì c'è ampio spazio per far trottare e per vedere benissimo i cavalli. Senti la partecipazione è aperta, io domani voglio venire a Etrea e voglio comprarmi un cavallo, cosa devo fare? Devi venire all'asta, se non hai mai comprato da noi basta una semplice presentazione in segreteria, ovvio che se non hai i colori o comunque non sei all'indentro del mondo Ippico basta che garantisca per te un guidatore e che sia presente all'asta e puoi tranquillamente comprare un puledro e avere anche tu il sogno. E allora passiamo un po' a vederli questi sogni, ecco un catalogo importante è stallone importante, tra l'altro è di questi giorni la grande vena di Redi Cash che ha vinto un po' ovunque. Sì, diciamo che la fa da padrone il top side ormai europeo Redi Cash, in asta saranno presenti ben dieci soggetti, Bashtop vincitrice proprio ieri visto che parliamo oggi del Marangoni è una figlia di Redi Cash, ma due giorni fa, se non sbaglio, o addirittura ieri il derby femminile in Svezia è stato vinto da una femmina Redi Cash, quindi dieci Redi Cash in asta sono veramente tanti ed è anche per questo che si è mobilitata parecchia gente, almeno per venirli a vedere. Non sarà presente ovviamente solo Redi Cash, il catalogo è di livello internazionale, Trixton, Donato Onover, Varen, Man of Many Mission, insomma ovviamente il maggior numero di prodotti presentati la fa da padrone ancora il nostro top side italiano che è Varen, intramontabile, con addirittura più di 20 soggetti in catalogo, quindi insomma sfido chiunque a dire che non è un catalogo buono, questo è un catalogo internazionale grazie ovviamente alla capacità dei nostri allevatori. Senti, non facciamo ovviamente torto a nessuno se citiamo qualche esempio, di qualche cavallo che anche a livello di curiosità può suscitare l'attenzione, poi ho detto che sia giudicato il migliore, ma a livello di curiosità non fosse altro per parentele illustri. Ecco, guarda, mi passi, mi dai l'assist per ripetere ovviamente che sarà presente in catalogo la sorella di Vashtop, è una Marajà quest'anno, e la sorella di Vivi Duaisa S che è una Varen, Shadowgar sarà presente con un fratello da Volticer Dumirt, colgo l'occasione per dire proprio che ha alzato il telefono Donati, mi ha chiamato due o tre giorni fa per sapere a che ora passava, quando passava, che numero era il Volticer Dumirt perché era curioso di venirlo a vedere. E poi il fratello pieno di Oasis B, insomma vi sfido a vedere il catalogo se lo avete in mano, oppure andare sul nostro sito www.its-aste.com e dare un'occhiata anche perché sono presenti numerosi video dei puletri iscritti. Ecco sì, qualcuno lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo. Insomma, un'occasione fondamentale, io voglio tornare un po' al discorso di quello che rappresentano le aste all'interno poi del movimento, perché l'asta è sempre un momento fondamentale, perché è lì che si concretizza la produzione allevatoriale italiana, quindi un po' tutto quello che è la selezione. Lo sforzo che dura quasi due anni, perché poi lo yearling a 18 mesi è quello dell'allevatore di, intanto di spendere parecchi soldi per le monte e soprattutto per il mantenimento del cavallo, ma il clou poi avviene all'asta, che è un momento di aggregazione, di aggregazione ippica di livello europeo, possiamo veramente incontrarci tutti. Sai, in questo senso l'asta chiaramente è concentrata in poche ore, in due giorni, eccetera, però ha sostituito un po' quello che avveniva ad esempio negli ippodromi in certe circostanze dove i proprietari si incontravano, discutevano di questo o quel cavallo, magari all'epoca si guardavano i lavori, oggi i lavori si fanno nei centri di allenamento ed è diverso. Però ecco, anche un confronto di idee a questo punto tra i vari proprietari, allevatori, addetti ai lavori. E questo mi fa piacere perché visto gli ultimi periodi dove non c'è così tanta unicità, fa piacere vedere le varie categorie, i vari rappresentanti che finalmente riescono a incontrarsi e a parlare vis-à-vis all'asta è anche un momento di interesse comune, questo sì è vero, è un momento che finalmente ci unisce e l'asta deve essere quello. Ovviamente avremo i banditori tradizionalmente che tradizionalmente lavorano con l'ITS, quindi Andrea Zanoboni e Pierrick Moreau, Andrea Zanoboni lo conoscete anche per le cronache sia di Trotto che di Galoppo e Pierrick Moreau è invece il banditore fulcro della casa d'aste francese Arcanà e negli ultimi anni si è messo anche a fare il banditore del Trotto, quindi poi lo conoscete tutti. Sul palco ci saremo un po' tutti, da mio fratello Guido che è il direttore di palco al nostro direttore operativo Marco Bozzi, a me, a mio padre, insomma siamo tutti presenti anche per darvi le ultime informazioni, se avete qualsiasi domanda o richiesta prima dell'asta noi siamo ovviamente a disposizione. E allora diamo a questo punto di nuovo l'appuntamento? Diamo l'appuntamento, vi aspetto tutti il 13 e il 14 di settembre a Busto Arsizio, inizio Asta il 13, per chi vuole venire già dal 13, anzi dovete venire già dal 13 alle ore 14 e 30 e invece il giorno seguente l'asta inizierà alle ore 14. Giulio io ti auguro ovviamente che l'asta possa avere grande successo, ovviamente sono 15 anni, questa è la quindicesima edizione, passò a faliero, quindi insomma incrociamo le dita e bocca al lupo me lo faccio da solo. Grazie a Giulio Berardelli, è tutto, appuntamento appunto il 13 e il 14, noi di Unire Sat ci saremo, ve le racconteremo per chi magari rimarrà a casa e vorrà seguire quello che accadrà per i campioni del futuro. Grazie.